Una squadra un po' diversa, nel senso che abbiamo un Dijonti che è tornato, che parte in quintetto, molti esterni, stiamo ancora cercando una vendita? Per adesso è tutto bene, è un momento un po' così, però era una cosa che avevamo preventivato, avevo preventivato nel momento in cui ho preso questa decisione. Non possiamo scoprire così molte scoperte, ma spaventiamo una grande defensa, aiutiamo l'unico. È sempre scoperto a cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno. Grazie a tutti.